Ok, ci siamo, siamo in diretta, comunque faccio passare qualche secondo per dare la maniera a chi vuole di collegarsi. Siamo a Treviso, siamo a Porta San Tommaso, c'è il mercato, c'è un sacco di gente, abbiamo anche l'accompagnamento musicale che abbiamo approssimatamente pagato. Per lo meno io gli ho dato un po' di profumo prima. Faccio passare qualche secondo in maniera appunto che vuole sui colleghi. Approfitto del fatto che qui abbiamo diversi candidati per farvi dire alcune cose che faremmo se fossimo al governo di Treviso. Naturalmente io sono in vista, diciamo così, come nome d'appoggio e chiaramente nel programma abbiamo inserito la parte energetica, quindi in particolare sulle comunità energetiche. Ora è chiaro che gli enti pubblici hanno assolutamente la possibilità di fare comunità energetica, e anzi sono due anni che ripeto che dovrebbero farle per il fatto che hanno un denaro pubblico a disposizione. Il denaro di tutti noi, quindi visto che ce l'hanno a disposizione, lo usino per fare comunità energetica. Però io mi rivolgo soprattutto alle imprese, le imprese che sono centinaia di migliaia, hanno fabbisogni energetici molto elevati. Ecco, per tutte loro io metto a disposizione il lunedì mattina, il primo lunedì mattina di ogni mese, per chi vuole, per fare il punto della situazione e per aiutarle a utilizzare questo strumento. Molte imprese non lo approcciano perché hanno paura che faccia la fine del super bonus. Quindi io continuo a ripetere, le comunità energetiche non possono fare la fine del super bonus perché sono una direttiva europea. Non è una legge nazionale, è il ricepimento di una direttiva europea. Quindi il governo, questo governo, il prossimo governo, qualunque governo, qualunque Parlamento non le può rovinare. Quindi le imprese si mettano a studiare le comunità energetiche perché è l'unico incentivo che hanno generalizzato da nord a sud. Altri incentivi per fare l'energia sportiva rinnovabile non ce ne sono. Quindi qui a Treviso vorremmo fare una comunità energetica più comunità energetiche, una per ogni quartiere, per il pubblico, per l'edilizia residenziale. Però sono le imprese le principali beneficiari e che dovrebbero utilizzare appunto gli incentivi a disposizione. Quindi rivadisco il primo lunedì mattina dell'epresa per chi vuole, che sono a disposizione, per dare una mano appunto lato imprendente. A questo punto comincio a chiamare i vari candidati con una signorina, insegnante, giusto? Insegnante. Che ci fa quindi qualche proposta lato. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Valentina Manette, sono insegnante di lingue della scuola pubblica dalle superiori. Nel mio lavoro sono a contatto con i ragazzi, la fascia dedicata dell'adolescenza e come insegnante e come persona adulta mi sento veramente di dover pensare a loro, specialmente la fascia under 18, perché quei ragazzi hanno poche occasioni di potersi impegnare in progetti che gli aiutino a sviluppare le loro capacità e che possano canalizzare le loro energie verso progetti positivi. Io ricordo la mia adolescenza, ho avuto l'occasione di fare l'animatrice al resto parrocchiale e per me l'estate era un'occasione di crescita importantissima più il raccamento delle persone. Questi ragazzi purtroppo prima di arrivare a 18 anni dove possono magari provare a fare dei lavori, prima di poter fare il PCTO o altre esperienze lavorative, non hanno occasione di poter sviluppare la loro personalità e quindi rimangono chiusi tra scuola e casa e casa e scuola. Quindi io vorrei veramente come consigliere insegnante per trovare per loro degli spazi, un urban center o anche in centro a Treviso o sviluppare quello che c'è già, in modo che possano trovare un ambiente adatto a loro, possano magari fare delle pause tra la scuola e le unità extra scolastiche, possano mangiare tranquillo e in pomeriggio, oltre a fare i compiti, possano portare avanti dei progetti che stanno a cuore a loro, alle famiglie, non essere lasciati da soli perché i clienti sono cospetti a lavorare fino a 6 alle 7 di sera e quindi anche come aiuto all'istituzione a pensare insieme questi ragazzi. Mi viene in mente un proverbio africano che dice che un bambino non può crescere da solo ma viene cresciuto da tutto il villaggio e quindi noi adulti dobbiamo lavorare insieme proprio per evitare anche quelle cose che si sono verificate negli ultimi tempi in centro a Treviso, quindi assombramenti di ragazzi che annoiati o senza controllo si ritrovano e fanno delle provate e finiscono poi per farsi male o per fare del male a loro stessi e ad altre persone e poi alla fine per ottenere cosa? Non stanno sviluppando niente per loro stessi, non stanno imparando nulla e quindi sinceramente questo è il mio consiglio principale. Adesso lascio la parola di nuovo al nostro Gianni Girotto che continuerà il deliro con gli altri candidati. Passiamo a un giovane che ha bisogno di giovani, neopapà, insomma un paio di recente che ci parlerà chiaramente anche della parte relativa ai genitori di giovani. Giorno a tutti, ma tu sei stata brava. Uno tipico che abbiamo trovato loro quando è avuto sia un problema di vicino, diciamo da con gli altri ormai nella città, il disagio dell'esplorazione, la città che c'era anche un po' maio di giocarti, però io sono diventato papà da circa si è avvenuto da un po' di grande national e praticamente il mio figlio è nato qui in questa stendita città e abbiamo che abbiamo constatato con la moglie che non è stato facile investire e crescere. Da questo motivo non è un'integno che si basa molto sul potenziamento dei prodotti ma anche per garantire altri servizi che vorremmo proporre come l'organizzazione che facilita il trovare queste strutture professionali che siano affidabili perché è molto difficoltoso, specialmente quando si sono emergenti, quando il bambino si ammala per avere tutto il supporto all'attività di tutti i giorni. Quindi questa è una delle proposte che vorrei portare avanti. Grazie, grazie. Direi che è essenzialmente essenziale. Siamo qua, è una natalità che è già in crollo. Olimpo, Olimpo, delle colonne portanti di Previso. Poi alla fine abbiamo Patrizio Mestrinero, che non è venuta a dire la possibilità, ma sentiamo un po' tutte le proposte dell'antico parlamentare. Allora, noi abbiamo fatto in ora una grossa battaglia per la cultura di Previso, specialmente sul parcheggio all'ex patinodromo, assieme alle nuove associazioni che si sono equalizzate per impedire questo. e questo è stato impedito, è stata una grande vittoria, soprattutto nelle nuove situazioni, ma anche perché abbiamo messo in contatto le associazioni con Rita Malin, senatrice, che ha contattato la sovrappendenza di finanza e in questo modo diciamo che abbiamo costretto la giunta attuale a fare un passo indietro. Anche se la protesta non fa la giunta preciclazione. Comunque per il Mura, avesso appunto per il Mura, arriveranno 6 milioni di euro dal PNRR, che è tanto, ma anche tantissimo, però qualcosa si può fare. Noi riceveremo, ovviamente riceveremo, ma non solo, riceveremo anche sulle Mura, anche sulle Mura. Il privato non metta più un solo dito sulle Mura. Voi sapete che nei decenni precedenti pezzi di Mura sono stati colonizzati dal privato. È ora che questa cosa finisca e che le Mura ritornino ai cittadini di Tremiso, più che mai. Noi, la nostra intenzione, diciamo, è questa per il futuro dell'Unda. Grazie. Grazie a Tecnici. Io non lo sapevo, ma Tremiso ha uno dei sistemi bastionati di parecchi primi, più belli d'Italia, per cui è una ricchezza da valutare. C'era un avvocato che si è nascosto, mi chiamate l'avvocato? Sotto e sotto gli avvocati sono... Io, prima di dire che gli avvocati non sono assolutamente la mia pentagonia conferente. Non è candidato. La persona di esperienza che mi faccio una riflessione, che io stesso ho fatto qualche volta, ma anche nella nostra famiglia. Buongiorno, Giulio Zao. Mi sono candidato con il Minuto 5 Stelle. Dopo un certo percorso, anche per cui è qualche anno che seguo la politica. Mi sono candidato altre volte. E mi sono reso conto che in questo periodo di edizione tutti fanno messi. Ma, come diceva di notte, tutti i gatti sono grigi. E allora tutti promettono la tutela del bene pubblico. Ti promettono il giro di zero, almeno il sumo di territorio. Ma io vorrei considerare questo. La vera campagna elettorale è già stata fatta. Viene fatta. La vera campagna elettorale viene fatta durante il periodo del mondo. La vera campagna elettorale viene fatta. E' una lista di amministrazione. E' un governo che si è scelto adesso. La vera campagna elettorale è un ottimo di territorio, di tutela del bene. Da quelle liste che poi sono già state al governo. Guardiamo la nostra città, cosa è che si è sceluppata negli ultimi dieci anni. Quindi continuiamo a vedere i centri profanciari, il suo esercizio, la destra. Continuiamo a vedere alberi secolari che hanno fatto a partire, come qualche spazio, magari a partire, a partire, a partire, a partire. che hanno messo gli edifici, al limite del consenso, anche il centro storico, anche vicino a zone storiche, come il cuore, per esempio, che hanno avuto il permesso di prestazione di destra e di sinistra. Quindi io guardo i 5 Stelle come un movimento serio che ha fatto il bene quanto è stato al governo e che soprattutto è stato coerente con quanto prometteva nelle campagne elettorali a rischio di trovarsi a combattere i problemi con molti avversari. Quindi sono certo che verrà presente i diritti civili, ma anche quelli sociali, sono quelle delle persone che hanno fatto un incendio, e sono certo che come primo amministrativo, sia quello del bene della città, e di rendere prevence un'utella, 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 un'utella. E' un'utella. Come un'utella, 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 un'utella... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.